per la prossima batteria Nicola Bottoli in corsia 1, Filippo Righini in 2, Enrico Del Pivo in 3, Massimo Chierioli in 4, Riccardo Rossetto in 5, Davide Aglioli in 6, Andrea Abiti in 7, Luca Scaramuzza in 8 Tanta attenzione, c'è l'annuncio squalifica nella batteria appena conclusa, atleta che ha nuotato in corsia 6, Tazio Bonelli Fux, Città Sport Vicenza, è stato squalificato per falsa partenza Grazie a tutti Grazie a tutti Isacco Danieli intanto corsia 8, 2, 6, 37 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti